mi desidera ancora questa è la domanda alla quale andremo a rispondere oggi benvenuti e benvenuti a tutti e ci approcciamo subito ad andare appunto a rispondere al quesito di oggi mi desidera ancora vediamo e come sempre vi invito a non incrociare le gambe per lasciar fluire le energie e naturalmente a diciamo come sempre concentrarvi su quella che è la persona che in questo momento vi sta a cuore vediamo subito che segnali abbiamo dalle carte andiamo subito a vedere vediamo un attimino questa persona se ti desidera ti desidera ancora allora io qui vedo che diciamo ci sono stati negli ultimi tempi parecchi parecchi problemi e parecchie incomprensioni è pur vero che questa è una persona diciamo così che negli ultimi tempi soprattutto ha diciamo così avvertito proprio a pelle da quello che mi che mi indicano le carte un senso di disagio e di disequilibrio ecco quindi diciamo che ci sono state sicuramente delle problematiche delle incomprensioni che hanno portato la persona che ti interessa ad uno stato d'animo piuttosto teso piuttosto negativo resta però il fatto e ce l'ho diciamo così indicato in maniera molto chiara qui dalle carte che stiamo parlando di una persona comunque emotivamente molto molto coinvolta sofferente sicuramente non sta bene come non stai bene tu in questo momento ma io penso che tu bene o male lo sappia è lo stato d'animo che sta provando anche questa persona nei tuoi confronti quindi chiudendo il cerchio e ritornando alla domanda dalla quale siamo siamo oggi partiti mi desidera ancora la risposta è assolutamente sì perché mi è molto chiara questa cosa dalle carte quindi ci sono parecchi segnali che mi parlano proprio di di nostalgia nostalgia di te nostalgia della della vostra storia della vostra intesa soprattutto è però anche una persona che in questo momento sta vagliando e sta valutando proprio in relazione diciamo così alle problematiche vissute nella coppia negli ultimi periodi ok anzi per oggi è tutto spero di esservi stata utile ciao al prossimo video